Ciao a tutti raga, sono Shoutout e oggi farò una recensione sul G36E che è un fucile d'assalto che si sblocca al grado di fergente, SGT e si può comprare per 950 GP per un giorno mi sembra e allora, quest'arma è una delle armi più popolari di Combat Arms proprio perchè, almeno a mio parere, è una delle più forti visto che ha una buona precisione e anche un buon danno quindi uccide abbastanza velocemente se sapete controllare l'unica sua pecca che è il rinculo ma comunque, adesso analizziamo le statistiche una per una per capire meglio allora, iniziamo dalla potenza di sparo allora, quest'arma uccide in 3 colpi se si è a distanza ravvicinata oppure in 4 se si è a media o lunga distanza a volte a lunga distanza potrebbe killare anche in 5 colpi ma è una cosa molto rara, di solito killa in 4 in 3 se si è proprio nelle medie corte più corte che in medie come precisione è molto preciso anche perchè c'ha un mirino telescopico incorporato e quindi vi permette di colpire molto lontani e molto precisi allora, poi portabilità è un po' più pesante rispetto ad altri fucili d'assalto come l'M4 che è più leggero però anche quello è decente ah, e se volete un G36 con portabilità un po' più alta potete prendervi il G36KE che però mi sembra si trova solo nelle casse MistN e MistG oppure con le... nelle casse grigie le Grey iSEC e... quindi non potrete comprarlo ma il G36 normale va benissimo ehm... poi passiamo al ratio di fuoco che non è alto come l'M4 oppure come altri fucili d'assalto come lo Scaracca Scarelle oppure non so altri del genere è un po' più lento però avendo un danno bello alto killa lo stesso velocemente specialmente se si avvicini che killa in tre colpi e... e questi sono i vantaggi di quest'arma cioè un buon danno una buona precisione una portabilità decente e un ratio di fuoco un po' lentino però accettabile adesso passiamo alla più grossa pecca di quest'arma per la quale molti giocatori non la usano oppure la usano ma fanno score brutti proprio perchè non riescono a killare e questa pecca è il rinculo altissimo che c'ha questa arma ehm... che praticamente è una cosa strana all'inizio è verticale poi inizia ad essere orizzontale poi va sul verticale e poi impazzisce non si capisce più niente ehm... quindi sprecherete un caricatore intero per colpire un nemico lontano oppure a media distanza per questo vi consiglio non di tenere premuto il pulsante del mouse ma... di... di cliccare ad ogni colpo così almeno diminuirete l'inculo e sarà più facile ammazzare gli avversari specialmente quelli molto distanti ehm... ah e per quelli molto distanti ovviamente potrete anche usare il mirino telescopico visto che si rivela molto utile a distanza a distanza ravvicinata è un po' più inutile ma va bene lo stesso ehm... beh ecco ah esiste anche una versione ANX di quest'arma che è il G36E Valkyrie che però è un G36 normale cioè un G36E normale ehm... però è colorato in modo un po' più figo quindi se dovete comprarvi un G36 potete comprarvi quello AGP senza comprarvi la versione ANX perchè è praticamente uguale cambia solo il disegno dell'arma quindi tanto vale avercela tutta nera ma non spendere soldi veri ma comunque mmm... il G36E è una delle poche armi che potrete portare in quasi tutte le modalità cioè più tutte che quasi tutte ehm... in tutte le mappe anche dalle più piccole come Junkflea alle più grandi come Snow Valley ehm... si ecco perchè tanti giocatori la usano e anche perchè da poco tipo un mese fa mi sembra... no... si più o meno un mese fa c'è stato un evento che per 80.000 GP potevi prenderti il G36 permanente e io ho sfruttato questo evento e me lo sono preso proprio perchè è un'arma molto forte è una delle migliori in combat terms e quindi... conviene per 80.000 GP ehm... le statistiche le ho già dite tutte ehm... cosa dire altro? ah si eh... mi scuso se non faccio molte recensioni ma ho vari impegni che me lo impediscono quindi ho poco tempo in quel tempo non so se ce la faccio o fare tante recensioni quindi se magari una settimana non ne pubblico nessuna non vi preoccupate perchè sono stato impegnato cercherò di pubblicarle la settimana prossima ehm... in estate ne pubblicherò tipo tre alla settimana almeno tre alla settimana perchè avrò un un casino di tempo libero mentre ora ce n'ho molto meno ehm... questa partita come potete vedere l'ho fatta in Ghost Town che è una mappa uscita cioè è una delle ultime mappe che la Nexon ha fatto ehm... è una mappa abbastanza buona ehm... in certi aspetti tattica anche se a volte ci sono troppi camperoni tipo questi qua che sto uccidendo ora che si mettono a camperare col cecchino qui nella loro base ma... vabbè anche se camperano basta andarceli con una smg oppure con un'arma qualsiasi ed è facile killarli ma... ah un'altra cosa che volevo chiedervi allora come... in questo video ho fatto il gameplay di una mappa sola ehm... che è Ghost Town appunto come ho detto prima allora ehm... volevo sapere se preferite che ehm... le recensioni le faccio su una mappa sola cioè un gameplay su una mappa sola di elimination oppure se ehm... preferite che la faccio in due mappe cioè per esempio metà video lo faccio che ne so in two towers e l'altro l'altra metà la faccio in Ghost Town per farvi vedere due differenti tipi di gameplay con l'arma da recensire non lo so ehm... scrivetemi un commento sul mio canale oppure commentate questo video e ditemi quale tra le due preferite ehm... il video dovrebbe essere quasi finito ehm... il mio team sta vincendo ehm... in conclusione dico che la G36 è una buona arma un'arma molto buona e quindi vi consiglio molto di provarla provatela perchè è molto buona ehm... anche se all'inizio sembrerà difficile controllare il recoil cioè rinculo potete usare ehm... il trucchetto che vi ho detto prima cioè a ogni colpo premere il tasto del mouse del mouse per diminuire il recoil ehm... poi vabbè se avete un nemico proprio davanti alla faccia è ovvio che non lo fate tenete premuto lo uccidete subito ma questo piuttosto lo dico per i nemici lontani che sono difficili da prendere ehm... ehm... vabbè niente ho detto tutto sul G36 ehm... ora è anche quasi finita la partita mancano pochi kill ehm... vabbè ecco abbiamo vinto adesso passo ai ringraziamenti vorrei ringraziare un mio amico ehm... whitewolf992 che mi ha aiutato a testare il danno del G36 a distanza ravvicinata e a distanza lunga ehm... vabbè finisco il video e alla prossima ehm...